ciao a tutti e benvenuti in pokemon go notizie la rubrica che vi tiene sempre aggiornate su tutte le novità del vostro gioco preferito vi ricordiamo di iscrivervi al canale e cominciamo con tutte le notizie finalmente è stato rivelato quale sarà il nuovo pokemon leggendario e sarà rai quaza farà infatti lui la sua comparsa nelle lotterade in tutte le palestre e sarà presente nel gioco fino al 16 marzo questo vuol dire che vi conviene catturare chi ogre entro il 14 febbraio inoltre sempre da domani appariranno nuovi pokemon di terza generazione soprattutto volanti e di tipo drago quindi mi raccomando catturateli tutti grazie a tutti